E riprendiamo signori con l'angolo dell'ilarità di Ellie, prego. Che cos'è? Barzellette, morti da ridere, volume 2 di Will Livingston. Andiamo avanti. Rubato un tir pieno di lampadine, la polizia brancola nel buio. Mamma mia, mamma mia, non ci credo. Dai, dimmene l'arte. Che schifo. No, no. L'hai capito o no? Ragazza stufa scappa di casa, i genitori. Dai, finisci. Ti ascolto. Cazzo, mi sono allontanato troppo o ho smesso. Comunque ragazzi, l'angolo delle freddure di Ellie è epico. Veramente epico. Proseguiamo. Oh no, dimmi di no, dimmi di no, dimmi di no. Cazzo, cazzo. Lo sapevo. Lo sapevo. Qui non c'è niente per costruire un coltello, vero? Porca vacca, però. Veramente. Cioè, ne ho trovato uno già costruito. E ne avrò costruiti altri due che ho usato praticamente solo per le porte. Porca vacca, ma dammi la possibilità di... Che ho fatto quelle merde di bombe chiodate. Niente, non c'è un cazzo e non... Signori, non credo che potrò aprire quella porta. Che appena proseguiremo diventerà inaccessibile. Questa zona sicuramente. Cazzo, se mi dispiace lasciare indietro quelle porte. Uffa! Si saliva. Ma dobbiamo continuare di qua, immagino se... Niente, raga. Diamo un occhio se magari qui... Per... Gloria divina... Ci sia un coltello. Mi mancano delle forbici. I nastri ce li ho. Che palle, veramente, guarda. Che palle. Facciamo i coglioni questa storia. Lasciamo indietro quelle porte. Facciamo veramente il cazzo. Chi è abbastanza disperato è capace di qualsiasi cosa. E questi disperati... Sono quelli che abbiamo combattuto qui. Immagino di sì. Niente, raga. Ci siamo aperti quella porta. Spero non ci sia stato... Vediamo dove è il ben di Dio. Sicuramente sì, col culo che ho. Ecco. Eh, vabbè, andiamo avanti. Dai, Amen. Che palle! Che nervoso! Attenzione quando scendi! Quante pillole abbiamo, almeno? Cento! Oh, ragazzi. Ci craftiamo la salute. Siamo dopati... Con la massima salute. Speriamo... Ne sia valsa la pena. Ho usato centocinquanta pillole. Bello, dove siamo? Giù, 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 giù. Oddio. Me la ricordo, sta zona. Che palle. No hope. A destra. Hanno aggiunto queste alghette... Mobili. Non le ricordo così fisse. Nella versione Play 3. Ma tu non ce l'ho già, vero? Sì. Diamo un occhio qui in fondo, raga. Ci arrivo, aspetta. Lo so che vuoi parlarne. C'è un sacco di cibo, no? Ce n'era. Ma qualcuno sceglieva di non mangiare. E per quale motivo? Per l'aspetto. Che idiosia. Già. Ai tuoi tempi, cazzo. Quanto scommettete? Che adesso... Tra pochissimo troveremo un... Un altro. Un altro. Vuoi qualche bruschetta, te? Adesso, aspetta. Che non... Eh? Adesso sto facendo qua, non mi cagare la minchia. Sì. Che sarà è piantla. Niente, gli serve un altro colzello. E come minimo... Almeno spero di riuscire a trovare il necessario per costruirlo adesso. Da non perdere anche quella porta. Magari, eh. Ok, inoltriamoci. Non posso saltare così lontano. Sì, dai. Se mi fai salire, posso spostare quell'asse. No, 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 no. Aspetta, perché di lì... Dai, cazzo, fammi trovare una merda di coltello. Dai, dai. Porca puttana, ma non è possibile. Non è possibile. Niente, non c'è niente. Cioè, non posso aprirne a sega io. Dai, ma perché? Andiamo a vedere qui. Mh, funghi. Fungacci. Ragazzi. Che desolazione. La desolazione di Smaug. Smaug. Cosa c'è qua? Non dirmi pillo. Forbici. Ragazzi. No, non ne ho abbastanza. Non ne ho abbastanza. Ma com'è possibile? Pillole. 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 Pillole, sì. Questo cos'è? Succederà stanotte per andare nel punto di controllo orientale. L'ho messo da parte... Eh, guarda. Guarda, porca troia. Ho messo da parte i rifornimenti extra presso gli appartamenti regali. Bene. Grazie. Grazie, sono felice. Potrei mettere da parte anche un coltello qui per aprirla. Che nervoso, ragazzi. Veramente. Sono disperato. Sono disperato. Oddio. Ehi, c'è un'altra di quelle cose tipo zattera. Possiamo usarla? Ah, lei è in fondo. Sì, l'ho vista, l'ho vista, dai. Cosa c'è? Cosa ho visto? Oh, cazzo. La camionetta. Qua stanno sparando tutti le persone, i civili di passaggio. Gente che cerca magari di scappare. Questi li aspettano, li seccano, li depredano. Qua che cazzo c'è, c'è roba? Come si fa ad andare sotto così? È anche un pesce. Hai preso, sì. Non si capisce come, ma l'ha preso. Nient'altro. C'è quella trota. Trota salmonata, carpa. Non si capisce cosa sia. Niente, raga. Mi sa che ce l'abbiamo nel culo anche per quella porta lì. Purtroppo... Purtroppo sono sfortunato. Non è... Va bene fare i fichi, farlo difficile, però... È anche poco bilanciato, perché ok, lasciate indietro una porta, però a questo punto un coltello... Sì, tagliamo attraverso l'hotel. Oddio l'hotel. Sì, calmati. Ok. Se volevi finire di parlare, Joel va bene, cioè... Non è che... Non è che ti devi interrompere. Ti devi vergognare. Oh, dai! Che cazzo sei venuta qui a fare? Dai, levati dalle palle. Dai! Mamma mia! Stiamo per scoprirlo. Perfetto, signori. Adesso, una volta scesi di qui, non si potrà più uscire, immagino. Via libera e alle scendi! Benissimo. Dio mio. Che nervoso. Che palle lasciare indietro tanta bella roba. Madonna, che penne. Esagerate. No, è troppo in alto. Vediamo cosa troviamo. Qui, se non sbaglio, poi c'è una cassa... Eh, infatti. Almeno questa la voglio trovare, eh, ragazzi. Ah, il caffè. Mi manca il caffè. Già. Il coffee time. Alcol. Forbici mai nella vita, eh. Porca puttana. Non ci dormirò stanotte per quelle due porte chiuse, veramente, giuro. Mi incazzo per quelle cose lì, Gad. Me ne leggo al dito, veramente. Qui cosa c'è? Una sega. Devo portarla dall'altra parte, la scala. Vai via! Bina... Pestifera. Signori, salutiamoci qui, eh, con un po' di ramarico per il sacco di bella roba che potevamo avere. Eh, nel prossimo video continueremo l'esplorazione di questo hotel. Sali. Sperando di trovare qualcosina. Qua secondo me c'era un trucchetto, c'era sì. Sare di lato. Io, come al solito, vi ringrazio sempre. Dimmi che la combinazione. Yes, 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 yes. Ha tutto lo staff la combinazione. Allora, signori, col culo che chiudiamo qui, apriamo la cassaforte. Anzi, faccio il bastardo. Dai, Joel, ti prego. Non ti baggare. Anzi, faccio il bastardo, niente di niente non ci passa. Neanche di qui. Eh, beh, certo. Insuperabile. La cassaforte l'apriamo al prossimo video. Eh, sì. Ciao a tutti. E alla prossima puntata. Un po' di vomito per tutti. Yeee. Ciao, ciao.